Quello che abbiamo visto è un momento di grande difficoltà, quindi le parole se le portano in vento, quello che parlano sono i risultati che ad oggi sono negativi, sono due sconfitte di fila, non è mai capitato forse da quando io sto qua, senza forza è il momento peggiore della mia gestione, quindi è giusto che ci rimbocchiamo le maniche, ci mettiamo la faccia poche chiacchiere e dobbiamo cercare di fare i fatti, cercare di girare anche questo momento negativo. Abbiamo dato un cambio con due vittorie, eravamo andati a Salò molto carichi di portarla a casa e ci eravamo anche riusciti, poi 20 minuti hanno cambiato un'altra volta il trend della stagione, oggi siamo qui dopo due sconfitte, quasi tre sconfitte perché Salò prendere tre gol in 20 minuti non è una bella cosa e come dici tu un po' sulla testa dei giocatori ha pesato, ma questo non vuol dire niente perché sono dei professionisti e bisogna cercare sempre di dare il massimo e cercando di invertire un momento negativo, oggi dico la verità, il primo tempo abbiamo cercato anche di fare una buona gara, abbiamo sempre tenuto il campo noi, la palla, con delle buone giocate, il secondo tempo onestamente non riconosco, non riconosco la squadra, sono molto deluso, sono l'unico responsabile, ma lo dico perché è giusto che sia così, è giusto che ci vengo da solo a parlare, è inutile fare parlare gli altri perché la gente non vuole sentire tante chiacchiere, forse neanche le mie, però è giusto che in questo momento ci giudiamo tutti noi e andremo in ritiro da stasera, cerchiamo di portare a casa una vittoria sabato che questa città merita, tutto il resto non vale niente. No, non è una questione di sconfitta ci sta, perché il primo tempo secondo me abbiamo meritato, il secondo tempo no, hanno dato un po' di possesso, però se andiamo a vedere come nascono i gol, sono cose assurde, il nostro capitano va giù, su una punizione laterale ce lo tengono fuori, un difensore centrale su una punizione laterale è uno dei giocatori più importanti, rimanere fuori e prendere i gol proprio in quel momento è una cosa assurda, poi perché dobbiamo andare a cercare, il portiere va in una mischia a andare a respingere di pugno, poi si trova un giocatore lì, onestamente questo non mi sento, di un ragazzo che comunque secondo me è in grossa crescita, il problema qua non è trovare il capo espiatorio, il problema è che siamo tutti colpevoli, siccome in testa ci sto io, la responsabilità è mia e io insieme a loro dobbiamo tirarci fuori. Quando si perdono le partite, quando sono momenti negativi, ogni curvo è sempre sentito di tirare fuori gli attributi, è giusto che in questo momento i risultati dicono che non li stiamo mettendo, è giusto che sia così e come ho detto prima non dobbiamo tanto parlare ma dobbiamo cercare di fare i fatti, riunirci tutti noi stessi insieme e da stasera è giusto che ci facciamo una bella settimana di hotel e tutti insieme dobbiamo invertire la rotta perché il camerale serie B è lungo, non è un bel momento, sapevo che era una stagione particolare, onestamente sapevo pure che potevamo trovare dei momenti negativi come questi e ci prendiamo le responsabilità e andiamo avanti perché non è tutto, non è che siamo retrocessi, non siamo all'ultima spiaggia, ci sono tanti mesi davanti e cerchiamo di invertire la rotta. Sicuro quando siamo andati a Brescia eravamo almeno due dai play-out e quindi oggi abbiamo fatto delle vittorie e sembrava che avessimo trovato un po' la strada, ad oggi ti devo dire che comunque siamo tutti in una situazione di difficoltà, non è che bisogna dire primo o dopo, avevo fatto una scelta insieme alla società di cambiare il miste perché avevo visto delle cose che non piacevano e oggi ti dico neanche sono tanto soddisfatto, però non è che possiamo stare a puntare il dito su uno, bisogna tutti insieme cercare di invertire, non ci sono tante chiacchiere, non c'è gioco, non c'è nomi, non c'è niente perché il lecco ti dimostra che nei calci i nomi non contano niente, ci vuole la fame, oggi la mia squadra la fame non ce l'ha, questa è la verità. Nella vita ci sono dei momenti di difficoltà, la squadra in questo momento non è una squadra che voglio io, non è una squadra che muore su ogni palla, non è una squadra che fa una corsa in più per il compagno, è una squadra che subisce l'avversario e secondo me a dimostrazione non siamo riusciti proprio a prendere il pallino di gioco e non va bene, alla prima difficoltà ci sciogliamo, sapevamo di affrontare una partita difficile e dovevamo metterci tutto in lungo e in largo per cercare di portare a caso un risultato positivo, ma un risultato che fosse stata la vittoria, neanche il pareggio, con questo non l'ho visto, non vedo una squadra che onestamente piace a me e quindi è giusto come l'ho costruito io, è giusto che mi prendo le responsabilità, però io sono pure sicuro che insieme a loro ci tireremo fuori da questa situazione, che non è bellissima, neanche bruttissima e c'è tanto tempo davanti e dobbiamo cercare di riprendere strada.